Musica Come avete visto dai episodi precedenti, gli infortuni continuano a colpire il Fulham del nostro mister italiano Allora lui, dopo un sogno premonitore, decise di... Pronto? Oh no! No, tranquilla, tranquilla, rilassati! Ho già prenotato tutto, vado a Lourdes Che fatica arrivare fin qua, speriamo che almeno ci serva Aiutaci tu! Bellasci ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo episodio della nostra carriera giramondo al Fulham Su Football Manager 2018 Vi invito a scaricare il gioco, a comprarlo, se avete ancora fatto Link in descrizione al sito di Stan Gaming sicuro ed affidabile al 100% Scaricate anche l'app di livescore.it e fatemi sapere cosa ne pensate App super gratuita, ovviamente scaricatela dal link qui sotto in descrizione Spero ovviamente con tutto il cuore che l'intro vi sia piaciuta e fatemi sapere se volete un altro episodio il prima possibile Perché ho intenzione di portarvi veramente questa serie almeno due volte a settimana Devo riuscirci e nel prossimo episodio, forse già alla fine di questo, cominceremo il calcio mercato Fatemi sapere anche se l'intro vi è piaciuta e se avete qualche consiglio scrivetelo qui sotto Nel frattempo saluto chi ha fatto lo screen e mi ha taggato nelle Instagram Stories Il più veloce è stato AlexBerna00 Per essere salutati è molto semplice fate una foto o uno screen mentre guardate il video E taggatemi nelle vostre Instagram Stories con l'hashtag la mia serie preferita Per seguirmi su Instagram basta cercare Kundispa Adesso bando alle ciance e andiamo a cominciare il nuovo episodio Allora quest'oggi ragazzi miei ci aspetto le sfide contro Wolverhampton, Birmingham, Oxford e Charlton Tre sfide in trasferta, la prima e le ultime due, l'unica in casa quella contro il Birmingham L'ultima quella contro il Charlton la andremo a giocare al mese di gennaio Quindi saremo già nel 2019 Sappiamo che abbiamo tanti problemi perché ci sono tanti ai nostri giocatori che sono sempre infortunati Che si fanno sempre male In questa partita mancheranno sia Wilson che Tim Rehm Che non ci sono ancora assolutamente ripreso Giochiamo contro Wolverhampton che è una squadra che io adoro Sapete anche il motivo della mia prima carriera storica su FIFA sul canale È stata con i lupi del Wolverhampton E quest'oggi voglio assolutamente riuscire a fare una gran partita Perché abbiamo bisogno di far risultati Perché le ultime partite non sono state di certo all'altezza Manteniamo il 3-5-2 che comunque ci ha portato bene lo scorso episodio Il modulo che mi avete consigliato voi Giochiamo con Bettinelli, Ayeti, Long, Bartley in difesa Fredericks, Kernig, McDonald, Becker e Soares centro campo Bijak e Jerome lì davanti a guidare il nostro attacco Occhio perché il Wolverhampton nonostante si trovi in basso in classifica Ha un attacco pericolosissimo Ho detto la squadra a giocare senza pressione Non ci sono tantissimi spettatori sugli spalti Anzi lo stadio è quasi mezzo vuoto E comincia Wolverhampton Fulham Occhio al Wolverhampton, palla per Cavalero Subito il talento Ivan Cavalero la butta dentro 1-0 Wolverhampton dopo 1 minuto e 37 Oh ci svegliamo o no Stanno giocando soltanto loro Ma dai Ma dai Che errore comunque provare a difendersi con una difesa 3 Davanti al loro quartetto offensivo Davvero che errore 12esimo minuto E loro hanno già calzato 9 volte in porta Bartley per Jerome La mette giù Serve Kerny il capitano Adesso Becker La palla per Bijak Che si addormenta Jerome Vede partire Bijak Prova a servirlo Bella palla Bijak la mette giù in aria Bijak Se allunga La mette in mezzo Jerome Al 25esimo Dai che devo riprire sta partita Forza raga Dai 2-1 Al 25esimo minuto Segna Jerome Ottimo lo scambio tra due attaccanti Finalizza poi Jerome Da due passi Su Assess di Bijak Fredericks di testa Adesso Jerome McDonald C'è Bijak Mai in fuorigioco Adesso servito La palla Becker Becker Cosa minchia fai No 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 Ma va a fan Puro Doppiette di Cavalero 3-1 Wolverhampton Al 46esimo minuto Un primo tempo Orrendo Che schifo Cominciamo la ripresa Con questo 4-3-3 Sono entrati Sisse E Steven Sessegnon Dai raga Proviamoci 79esimo La porta Jerome La palla per Fredericks Se l'allunga Ancora lui Fina in fondo La mette dentro Calcio di rigore Al 79esimo minuto Ti prego Ti prego Lo batte il capitano Batte Kerny Kerny 3-2 Al 79esimo Anzi All'ottantesimo Ormai Dai vai a prendere la palla Dobbiamo spaventarli Adesso Spaventarli Tutti avanti E' entrato Il giovanissimo Coro Per Al posto di Jerome Qui Sessegnon Può andare La mette in mezzo Fredericks Non ci credo 3-3 L'ha messa dentro Fredericks Incredibile All'82esimo Minuto Mamma mia Che rimonta Assurda Grande Occoro Bravissimo Fredericks Ma anche Sessegnon Che palla Ha dato Steven Finisce 3-3 Una partita Bruttissima La parte nostra E' vero che l'abbiamo Rimontata Con i denti Stretti Con una squadra Che era messa in campo Anche molto male Mi prendo le colpe Di questo pareggio Però è stata una partita Emozionante Alla fine Ma quante ne abbiamo prese E quante ne potevamo Prendere ancora Faccio capire alla squadra Che comunque Il pareggio Alla fine è stato Giusto E che hanno dato Anima e corpo Per raggiungerlo Problema adesso Che il Brighton Ci ha risorpassato Quindi adesso siamo Al quarto posto Il 3-5-2 Dobbiamo Imparare ad utilizzarlo Chebano Si è aggiunto La lista di chi si lamenta Perché non sta Zuccando Quanto Quanto spera E quindi Gli ho promesso Ovviamente Un posto Da titolare Nelle prossime partite Perché comunque Su Chebano Voglio puntarci Almeno fino a gennaio Quindi ancora Per qualche partita Clamoroso L'Inter Ha esonerato Lucianone Spalletti Inter che è in classifica In serie A Si trova al nono posto In classifica Con 21 punti Chebano Era contento Perché io Gli ho promesso Di farlo Tim Rehm Che è Wilson È una partita È una partita importantissima La giochiamo in casa Giochiamo contro Il Birmingham Che si trova Al decimo posto In classifica Soltanto 19.000 Biglietti Venduti Dobbiamo Spronare La gente A tornare Allo stadio Formazione pronta Per la sfida Contro il Birmingham Mi affido al 4-2-3-1 Con Bertinelli Suarez Long Lescott Che gioca forse La prima titolare Sessegnon Johansson Becker Ajite Kerni Fredericks Che dopo il gol Della scorsa Partita Ho voluto Dargli questa opportunità Perché comunque In avanti Fa meno danni Che in difesa E Bijak Prima punta Purtroppo Gli infortunati Sono tantissimi Squadra è pronta Adersi battaglie In campo Non sarà una gara facile Dobbiamo tornare A risollevare Il nostro morale E ci servono Con le vittorie Adams per Iota Ha segnato Quella lotta Di Iota Al 42esimo Il Birmingham È in vantaggio Non so più cosa dire Non so più cosa dire Davvero Ho il morale In questo momento Sotto i tacchi Anche se ho noi Tacchi Però avete capito La squadra è completamente Contro il suo allenatore È cominciata La ripresa Senza nessun cambio Per adesso Al 53esimo Dentro Sissè E Wilson Per Johansson E Fredericks Dai James Dai James Inventati qualcosa tu Cerny Stato in velocità Wilson Perché abbiamo Chebano Forrest Giallo Tim Rehm E Sessegnon Fuori Come già anticipato Tim Rehm Torna ad allenarsi Con la squadra Affronteremo l'Oxford Tra pochi semigiorni Ma prima vorrei Parlare Parlare proprio con la squadra Infatti Riunione di spogliatoio È assurdo È assurdo Io ho detto che Se giochiamo insieme Anche se non stiamo Giocando benissimo In quest'ultimo periodo Possiamo comunque Conquistare la promozione Mi hanno detto Non credo che Conquisteremo mai La promozione Se ha intenzione Di criticarci Anche quando Giochiamo bene Oh ma vi svegliate o no Ma siete tutti Rincoglioniti E il problema Raga Nasce tutto da ciò Quando il capitano Il leader Della tua squadra Non ti appoggia Vuol dire che C'è davvero qualcosa Che non va Per niente bene L'Escot Do Lo fa giocare Una partita Ha deciso Di darla a D Al calcio E il 30 giugno 2019 Lui Appenderà I scarpini al chiodo Raga Vado a contattare Per l'ingaggio Un certo Andrea Rossetti Ex Pescara Che ha 20 In fisioterapia E secondo me Potrebbe darci una mano E ho offerto Anche il contratto Raga Ad un certo Andy Renshaw Adesso al Gillingham Ma è stato Ben 6 anni Al Liverpool Come fisioterapista E anche lui Non è per niente male Questi ci servono Per evitare Nuove infortuni Perché comunque Avere uno staff All'altezza È molto importante Ryan Sessegnone È tornato A allenarsi Con la squadra In più Va monitorato Ovviamente Però potrebbe Giochi chiara In questa partita Ma dato che viene Da un infortunio grave Cioè una commozione cerebrale Decido Di tenerlo fuori Per questa partita 4-1-2-3 Per noi Betienli Suarez Rim Long Sessegnone Sesse Kerni Baker Kerni Gioco ancora Di tolare Non l'ho ancora Mollo 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 Il rigore Non ho parole Wilson Mollo Mollo O altro calcio di rigore Prima il fallo aveva fatto Sissé Adesso lo fa McDonald che ha sostituito Sissé C'è assurdo Batte Keane 3 a 2 Oxford Vaffanculo Dentro Fredericks e Bijak per Ajite e Mollo Baker, Kearney, movimento di Wilson La palla è per lui adesso Wilson per Fredericks 3 a 3 Mamma mia C'è io mi vien da piangere raga perché Sono partite che avremmo dovuto vincere 3 a 3 Segna Fredericks appena entrata Molto bene palla recuperata Baker, Kearney dai andiamo tutti avanti Kearney per Bijak Bijak per Wilson Wilson per Fredericks Sul secondo palo ci sono tutti La palla è in mezzo Sbagliatissima Kearney recupera Baker Alta Finisce 3 a 3 Che partite eccezionali dice il telecronista Beato lui che si è divertito Tutti quelli che continuano ad andarmi contro Davvero Prima o poi li caccio via seriamente Adesso a gennaio Vediamo cosa fare Altro pareggio e scivoliamo al sesto posto in classifica Altra riunione di spogliatoio Oh ho detto che stanno facendo bene Adesso sono più felici Vi prendo a schiaffi ve lo giuro Adesso abbiamo favorevoli Wilson, Ayeti, Bijak e Jallot McDonald e Kearney ancora così Ma io a gennaio So già cosa devo fare Cioè tra due giorni in poche parole Raga un attimo Ma è il 31 dicembre Ma oggi dovrei festeggiare Buon 2019 a tutti Dopo i festeggiamenti Torniamo quindi Buon 2019 a tutti Durante la notte Hanno firmato Per il Fulham Ecco qua Sia Renshaw Il fisioterapista Che Rossetti L'italiano L'altro fisioterapista Cominciano le offerte Raga La prima è per Kearney Dall'Ipswich Town Da 7 milioni e mezzo Arrivano a 9 Quindi ho rifiutato Apriamo questo nuovo anno Con questa partita Chartleon Fulham Loro quotati a 5 E noi a 1,57 18.000 biglietti venduti Su una capacità di 27.000 Partita fondamentale Per ritrovare morale Io vi chiedo soltanto questo Vincete Vi prendo Squadre pronte 4-3-3 per noi Gioca a battone Non Bettinelli Potrebbe essere un cambio Importante Perché I gol subiti Sono veramente troppi Poi Suarez Rim Long Sessegnon Johansen Baker Esclusione a sorpresa Per il capitano Chierney Adesso la fascia capitano Viene indossata da Team Rim In avanti Sessegnon Che torna dopo il lungo infortunio Joan Mollo E ovviamente Come prima punta James Wilson I discorsi del prepartire Sono sempre positivi Comincia il match Chartleon Fulham Ultima di questo nostro episodio Prima del 2019 Andiamo Soares con le mani Becker Ancora Soares Dentro per Johansen Dai in mezzo Mollo Sponda per O'Reley Proprio O'Reley Quello che gioca Al posto del capitano Cerny O'Reley Met 1-0 Fulham Al 43-mo minuto Un primo tempo Non facilissimo Il Chartleon Che comunque Gioca bene Tutti stre Tutti a difendersi E noi qui Troviamo il vantaggio Con l'ottima sponda di Mollo E al volo O'Reley Segna un gran gol Se segna un Per O'Reley Lancio bellissimo Per Mollo E in aria Mollo La mette per Wilson In due minuti Il successo di tutto 43-simo Wilson Segna il raddoppio Su assist Di Mollo Grandi così L'assenza di Cerny Forse Fa bene alla squadra Grande O'Reley Che fa un cambio di gioco Col mancino fantastico Mollo Cerca la testa E trova la testa di Wilson Che la mette dentro Da due passi Mollo per Wilson Bella palla Salta l'avversario Wilson Wilson Poi Strozza un po' il tiro Così così Nello spogliatoio Andiamo alla ripresa Occhio all'angolo E c'è il gol Del 2-1 Segna Williams E va a prendere la palla Il Chartleon Vuole il pareggio Adesso Becker palla al piede Con l'esterno per O'Reley Adesso Mollo Fermato e scivolato E Mollo rimane fermo lì Come un pirla Palla dentro Che buco Che buco Ma non era fuori gioco Ragazzi hanno pareggiato La partita Così O'Reley salta l'avversario Dentro per Wilson Wilson Se lo divora Johansson Becker Il lancio per Wilson Troppi lanci a caso Becker adesso Larga da 6-1 Cross in mezzo Diente da fare Arriva O'Reley Dentro per Fredericks Col destro Che è fucilata Palla fuori Entrato Bijak Per Sessegnon Dobbiamo cercare il gol Della vittoria Sessegnon Ancora per O'Reley O'Reley per Fredericks Dentro per Bijak Ha segnato Ho segnato l'Ovro Ho segnato l'Ovro Bijak Al novantesimo minuto Segna l'Ovro Il nostro talento Sloveo Non voglio crederci Che ha segnato Proprio lui È appena entrato A 9 dalla fine E la butta dentro Da due passi 3-2 Fredericks Per Wilson Dai che manca pochissimo Teniamola Bijak Col destro Ci prova lui Fischia arbitro Fischia ti prego Finisce qua Torniamo alla vittoria Ma che sofferenza Che sofferenza Dopo averla Aperta la partita E' essere andati anche Sul doppio vantaggio 2-0 Recuperati Nel giro di 5 minuti Da ripresa Poi all'ottantanovesimo L'ha buttata dentro Il nostro pupillo L'Ovro Bijak Il mister esploderà davvero A bordo campo Dico ben fatto alla squadra Loro sono contenti così Team Rimm è ancora infortunato Fuori per uno o tre giorni O'Reley Davvero una gran partita E vi dirò che Giocherà sempre di più Questo talento Perché Nelle poche volte che ha giocato Ha dimostrato di saperci fare Poi Al posto di Kearney Che ultimamente Soprattutto sta giocando Sempre male In più Non ci caga minimamente Io direi che E' una gran cosa Vediamo Ancora Kearney E Mcdonald O stili E ho appena messo Nella lista delle eccessioni Sia Kearney Che proprio Kevin Mcdonald E arriva un'altra offerta Da Lipsic Town Da 12 milioni e mezzo Io ne voglio 15 Hanno accettato Per 15 milioni Quindi in questo istante Alla fine di questo video Noi salutiamo Ufficialmente Il nostro capitano Che mai Ci ha amato Quindi Adesso c'è stata Una scelta L'allenatore E i risultati O la felicità Di un capitano Io Mi dico Che preferisco far vincere E veder vincere Veramente La mia squadra Ciao Addio Caro Kearney E adesso Chissà Che compreremo Ma soprattutto Adesso chissà Come reagirà la squadra Cazzo raga Un attimo La classifica C'è assurdo Dopo tre pareggi Siamo ancora lì Perché siamo adesso A tre punti Dal derby county Che non sa più vincere Neanche noi Però Siamo lì 47 punti Pare punti Con il Brighton A tre punti Dal derby county Il Fulham Non muore mai Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo lì